Benvenuti nel nostro canale. Prima di iniziare il video, vi ricordiamo di iscrivervi, lasciare un mi piace e attivare la campanella per non perdervi i prossimi aggiornamenti. Oggi parleremo di Fiorello, il celebre comico siciliano con oltre tre decenni di carriera nello spettacolo. Dagli anni 80 e 90, quando ha debuttato su Radio DJ e successivamente su Mediaset, Fiorello ha conquistato il pubblico con il suo inconfondibile stile. Sicuramente ricorderete il suo caratteristico codino e le esilaranti performance canore che lo hanno portato a girare l'Italia. Ma più che la sua voce, è stata la sua naturale simpatia a vincere i cuori. In un'intervista recente, Fiorello si è aperto in modo intimo sulla sua vita e carriera. Nonostante il successo, ha ammesso di lottare contro l'ansia. La felicità per me è un divano, guardare la tv e non fare nulla, perché tutto il mio lavoro mi mette ansia. Ho passione, ma anche troppa ansia. Questa ansia da prestazione lo spinge sempre a superarsi, anche se ha evitato impegni fissi in tv e talvolta si sente inadeguato sul palco dell'Ariston. La moglie Susanna è stata il suo pilastro. Susanna è chi mi spinge a fare cose che mi rendono felice, ha svelato Fiorello. È stata lei a suggerire l'anno scorso di trasmettere, Viva Rai 2, durante Sanremo, permettendo a Fiorello di mantenere il suo amatissimo show. Fiorello, con la sua autenticità e il suo talento unico, continua a essere una figura amata nell'universo dello spettacolo. Seguiteci per ulteriori dettagli e approfondimenti sulla sua straordinaria carriera e le ultime novità che lo riguardano. Non perdete l'occasione di scoprire il retroscena di un artista straordinario. Iscrivetevi ora, lasciate un like e attivate la campanella. Vi ringraziamo per il vostro supporto.